Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Diamo subito uno sguardo all'evoluzione meteo prevista per il weekend che vi preannuncio sarà ancora caratterizzato da un sabato all'insena della diffusa instabilità su gran parte d'Italia, in particolar modo sui versanti orientali della penisola e dal sud, dove il cielo sarà regolarmente nuvoloso con piogge sparse e qua in live anche qualche temporale. Le temperature sabato saranno in generale ulteriore diminuzione, specie sui versanti orientali e il meridione, mentre l'alta pressione comincerà a rinforzarsi da ovest, infatti nella seconda parte della giornata le prime schiarite cominceranno ad interessare il nord-ovest, le isole maggiori e i versanti tirrenici. Domenica bel tempo prevalente quasi ovunque, in particolar modo al centro nord, dove l'alta pressione riporterà ampi spazi soleggianti su tutte le nostre regioni, mentre negli ultimi annuvolamenti anche qualche acquazzone continuerà ad insistere all'estremo sud ma in progressiva attenuazione. A inizio settimana poi l'alta pressione si rinforzerà su tutta Italia, favorendo una nuova fase all'insegna della stabilità e del clima mite, ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Intanto scaricate l'app di Trebi Meteo su smartphone e tablet.